Bagnon Cup Come è andata? Facciamo impressioni a caldo generali di tutta la squadra? Penso un po' il risultato è un po' bugiardo perché comunque a livello di occasioni loro hanno fatto dei bei tiri e noi no, quindi alla fine penso non so quando li ho contati quanti tiri hanno fatto, però ogni volta che tiravano veniva fuori il gol della domenica e quindi alla fine 5-2, risultato pesante. Tante capacità balistiche, effettivamente avevo visto una traversa, credo Valerio. Avevano capito come prendere la palla con la pioggia perché veramente delle parabole difficili da intercettare per il portiere che però comunque non poteva nulla su nessuno dei gol. Senti, dici il vostro punto debole di stasera da migliorare subito? Penso che ci manca una punta, un attaccante che la butta dentro perché sono tre partite che perdiamo 5-2 e quindi mancano i gol dell'attaccante, quindi speriamo nel mercato. Vedremo se il mercato di riparazione ti ricordi, se faceva questo periodo poi una volta, a novembre subito andavi a cercare qualcuno. Valerio, stasera insomma ha una prestazione quasi pirotecnica con un burgo che è partito col gioco bene, con i punti un po' meno, stasera però arriva una vittoria, arrivano i tre punti, tutti contenti? Tutti contenti sì, finalmente è arrivata questa vittoria e abbiamo giocato bene, tutta la squadra ci ha creduto dall'inizio e dai, una bella partita da entrambe le squadre, noi abbiamo approfittato dei tiri da fuori perché il campo è bagnato, quindi è giusto provarci, poi ci è andata bene e quindi dai. Senti, chiudo con te con una domandina veloce, rispetto all'anno scorso in questo periodo, quindi inizio torneo, come vi sentite? Ci conosciamo di più, la squadra è sempre quella, stiamo cercando ancora il meccanismo però dai, ormai sono tre anni che giochiamo insieme, si inizia a vedere magari? Dai, piano, piano dai, vediamo così, speriamo bene dai. E allora dal campo A dell'Andrea Doria con la vittoria dell'Hamburgo vi salutiamo per questo turno, ringraziamo Valerio Boni dell'Hamburgo, Luca Aguilanti del Bayern Monaco e ci vediamo tra due settimane perché noi d'altronde Magnum, i turni dispari, c'è il video. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi.